Nelle Marche due parametri su tre sono da zona gialla, ma la regione resta arancione per la seconda settimana consecutiva. Il governatore Acquaroli ci aveva sperato visto l'andamento della curva e il calo della pressione sugli ospedali, ma non ci sarà alcun cambio di fascia da lunedì 14 febbraio. L'altra brutta notizia è che i decessi per covid dopo una giornata di tregua apparente sono di nuovo saliti, sei nelle ultime 24 ore. Sono morti quattro uomini e due donne di età compresa tra i 60 e i 93 anni, tutti con patologie pregresse. Ma veniamo agli altri numeri del report giornaliero. I ricoveri legati al covid sono in picchiata meno 13 su ieri, 348 quelli totali. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 47, meno 3. Quelli in semi intensiva 68, numero che resta invariato. Mentre sono ben meno 10 quelli in reparti non intensivi, per un totale di 233 persone. Ci sono poi ben 42 persone dimesse nelle ultime 24 ore. La Regione Marche è precisa che il tasso di occupazione nelle terapie intensive è sceso al 18,5%, mentre in area medica il valore risulta del 29,3%. Su base settimanale il dato delle terapie intensive non ha mai superato il valore del 21,1%. Continua anche la discesa della curva epidemica. L'osservatorio regionale indica 2.556 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono stati complessivamente 10.719. I casi del giorno sono invece così distribuiti nelle 5 province marchigiane. 736 ad Ancona, 587 nel Maceratese, 446 in provincia di Pesaro Urbino, 355 ad Ascoli Piceno, 325 a Fermo e 107 da fuori regione.